Santa Margherita Ligure guarda oltre il coronavirus. La Giunta ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'elisuperficie sulla diga portuale di Santa Margherita Ligure, un'opera di cui si parla da decenni e che ora sta diventando realtà. Con questa approvazione si apre ora l'iter della conferenza dei servizi. Anche in questo periodo di emergenza sanitaria continuiamo a lavorare per far crescere Santa Margherita Ligure. Questa è l'isuperficie con i suoi 35 metri quadrati di diametro posizionata sulla strada che va verso Paraggio e Portofeno e con la possibilità di lavorare sia in orario diurno che notturno potrà rappresentare una grande possibilità di crescita per il turismo di Santa Margherita e per la qualità del turismo del nostro territorio. E in Porto intanto si continua a lavorare dopo il varo dei primi quattro cassoni, gli altri quattro prendono forma sulla banchina mentre continua il rinforzo della massicciata. Migliorano le condizioni di salute dell'operaio rimasto ferito nei giorni scorsi durante i lavori. Lavori in corso anche sulla strada tra Santa Margherita Ligure e Paraggi, mentre si interrano i sottoservizi vengono rifatti anche i marciapiedi. In attesa delle direttive governative sulla fase 2, Santa Margherita Ligure ha voglia di ripartire, si allestiscono le spiagge e molti esercizi commerciali si sono attrezzati per consegne a domicilio, mentre in città proseguono tutti i giorni controlli e sanificazioni. L'amministrazione sta tenendo costantemente i contatti con le categorie per essere pronta a pianificare insieme la ripartenza. Mascherine per donne incinte, si ricorda che per richiederle occorre telefonare al 335 74 23 747 lasciando i propri dati e l'indirizzo per la consegna. In città, solo dal comune, le mascherine distribuite gratuitamente alla cittadinanza sono state circa 13.500. Ricordiamo gli altri numeri utili e le informazioni di servizio. Il comune risponde, numero unico per contattare gli uffici comunali. Il servizio gratuito di consegna a domicilio. Pronto, ciao dimmi, spazio di ascolto telefonico. Numero unico H24 per richiedere un taxi a Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.